Buonasera ragazzi, siamo alla Risomania, stasera il risorto di Ricarnasco, andiamo a chiedere a tutto il risotto che hanno in mente, vediamo se ci succederanno. Prima cacca, cacchina barchettina, andiamo a scattarci e vediamo quali risorto che succederà questa sera. Allora, stasera vi faremo un bel risotto con la roviola mantecata, polline e miele delle nostre aziende e alla fine dello spec doca di grattato messo sopra. E sono molto contenti, in bocca al tutto. Ah, sono gentilissimi. Seconda tappa della nostra ammessa, un'aleggina e vediamo quali risorto che facciamo. Allora, questa sera facciamo un risotto, è una ricetta vecchia, che non è stata inventata da lei, ma è stata inventata da un panettiere del paese, un vecchio panettiere del paese. Questa ricetta io l'ho rubata dal famoso fricino che hanno tutti i vecchi, con le ricette, e se l'ho fatta con una base di pasta di salate e altre cose. Allora, insomma, non è una ricetta vecchia, io l'ho solo sviluppata, l'ho fatta. Sono curiosissima di assaggiarlo. Grazie. 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 Terza tappa, il po' e lo basso. Diamo che c'è il fratto, che risotto ti farai stasera? Allora, stasera preparo per la giuria un risotto, limone e rostadino. Abbiamo scelto questa ricetta perché, a parte che è molto fresco, estivo e va benissimo, stasera che è una serata molto calda. Abbiamo scelto i limoni, i limoni coltiva la proprietaria, la signora Maria, l'omellina, e c'è una cosa stupenda, un profumo che si sente fino a 4. E niente, per cui siamo qua. Buon caldo. Grazie mille. Ciao a tutti. La parola che si sente è una cosa stupenda, un po' di fischiola, che si sente rotto, un po' di fischiola, un po' di fischiola, un po' di fischiola, che verranno poi cercati in modo molto particolare, che poi vedevi in questo video. Ora siamo all'accordo, il fischiola che si sente ronde. Vediamo quanto riposso, che si sente ronde per la sera. Io farò un risotto di tradizione lumellino che è quello con i paglionelli del nostro, ok? Aspetto è, è fumato col buon arda, quindi vado ad usare dei prodotti del nostro territorio, ok? Ragazzi siamo alla sesta tappa Ludovico Moro, siamo con lo chef, ma non è scogito, e vediamo come il risotto ci stupirà questa sera. Un risotto alla crema di basilico, con quella passata marinata al gillermo, e briciole di pane all'aglio nero. Eccoci, siamo alla sesta tappa, il sconso di Marecchiaro, siamo con la stessa tappa in Alema, questo è il risotto che prepariamo la sera, è un risotto classico, diciamo, con un risotto allo zafferano, con pistilli anche, e osso buco e midollo. Bocca al lupo all'ora per questa sera, un risotto classico, ultimissima fermata, il risotto di Daniele, siamo qui con il suo chef Aldo, anche finirà nel suo ritorno. Buongiorno a tutti, stasera preparerò la nostra ricetta, con gambero di ova, la crema di porri e l'anetto. Wow, un metodore di assaggiato. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti quanti.